L'estate a San Gregorio è appena iniziata. A partire da giovedì 25 agosto fino al 24 di settembre ritornano in piazza balli, musica, teatro, folklore e poi tanti appuntamenti legati al gusto. E allora non perdete questa grande estate 2022 al comune di San Gregorio. Noi siamo qui per raccontarvi quello che accadrà in questo mese davvero importante. All'interno del programma che abbraccia tutto, dal cabaret alla varietà, alla musica classica, al teatro, al ballo che quest'anno si ritorna a ballare nelle nostre piazze perché è una piazza, soprattutto piazza immacolata, storica per queste scuole di ballo, chiamiamolo così. Ma i tre punti cardini dell'estate sono in primis, andando per ordine di date, il 3 di settembre abbiamo la solennità estiva del patrono con la messa esterna e poi col congetto bandistico fuori. Il 4 di mattina avremo i bersaglieri di Zafferana che gireranno e allederanno per la nostra estate e il pomeriggio ritorna, dopo tre anni, do ormai la certezza al 100%, del corteo storico che rievoca i fasti della famiglia Paternò Castello Ventimiglia sul nostro territorio. Corteo che abbraccia quasi 200 figuranti, l'80% dei figuranti sono dei vestiti riprodotti in luogo dalle nostre sarte ed è una tradizione che parte dal 1995, rivista dall'Associazione Culturale Pro San Gregorio e portata avanti poi dall'amministrazione comunale, dalla Pro Loco, ma soprattutto da un piccolo uomo ma è un grande uomo, perché è un piccolo distratore che è Angelo Budere che ha riprodotto fedelmente tutti i vestiti in maniera certosina. Poi 9, 10 e 11 avremo le Polpette in Festival che è una vetrina gastronomica organizzata da Bir Catania che ormai è alla quarta edizione e poi chiuderemo il 24 settembre che sarà una serata in pratica sarà un coro e una cosa all'interno dell'auditorio. Non mancheranno gli appuntamenti legati alla cultura e alle tradizioni. Il 3 settembre sarà la volta dei festeggiamenti del santo patrono di San Gregorio Magno. Il 4 settembre la sfilata dell'antico corteo storico della Rosa. Un modo per creare inclusione, un modo per far riemergere ancora una volta cultura e tradizioni popolari di San Gregorio. La cultura crea identità e San Gregorio ha una bella identità culturale. È stata un'estate molto sofferta perché è stato un bilancio difficile. Infatti mi complimento ancora una volta col sindaco, con l'assessore Zappalà che ci crede sempre, non si arrende mai neanche dinnanzi alle più cruente difficoltà. Anche l'assessore al bilancio, insomma tutto l'aggiunta. Per noi è sempre un lavoro di squadra. Ci sono tanti eventi che evidenziano l'aspetto dell'identità culturale di San Gregorio. San Gregorio investe sempre nel teatro, nella musica, anche nella danza, nei balli, perché comunque creano comunità, creano confronto. Anche questo è cultura, anche lo stare insieme in una piazza a divertirsi e scambiare opinioni è cultura. E poi sicuramente l'evento clou è il nostro corteo di cui ha già parlato l'assessore. Quella è una cosa di cui ci ventiamo, un orgoglio di questo paese, che a nostro avviso potrebbe essere veramente portato non solo in Sicilia, in Italia, in Europa, ma anche nel mondo. Ce lo possiamo permettere di dirlo con orgoglio, perché veramente sono degli abiti di una di qualità incredibile. E poi anche un evento un po' più goliardico, che tutti aspettano, soprattutto i giovani della nostra città metropolitana di Catania, che vengono a trovarci a San Gregorio già da diversi anni, che è quello della Polpetta in Festival, che comunque anche quello crea una bella allegria, e oggi ne abbiamo bisogno. Tutto ciò che crea comunità è scambio, è cultura. E San Gregorio in questo investe sempre, grazie a un lavoro di squadra e soprattutto un grande amore per il territorio e per i cittadini. Questo ci contraddistingue, lo possiamo dire, siamo politici un po' alternativi in questo, perché oggi la gente è confusa perché non vede amore per il territorio e per gli altri. Noi possiamo vantarci di averlo. Mettere in piedi, anche se l'estate, tra virgolette, volge al termine, un programma comunque estivo, così ricco, così fitto, che porta alla luce, alla ribalta, alle tradizioni siciliane e storiche, soprattutto del paese, era una mission da fare. Sì, sì, senz'altro, perché noi, tutta l'amministrazione, pensa anche al benessere dei propri cittadini, principalmente perché proveniamo da due anni, quasi tre anni, pazzeschi e quindi nei cittadini c'è quella voglia di uscire, anche di andare in piazza per un semplice ballo o assistere ad una commedia. Però dobbiamo dire che ultimamente, negli ultimi anni, i nostri cittadini si sono abituati, e anche i visitatori che vengono da fuori, ad apprezzare altri tipi di spettacolo. Quando si fanno le serate musicali di un certo tipo, e beh, devo dire che c'è tanta gente, l'auditorium, l'arena dell'auditorium è sempre strapiena, stracolma, per cui le persone apprezzano questi eventi.